Questa è seta tinta, non tinta, però ci si ricama ecco. Allora taglio, eh? Vengono da curvi, stanno, da curvi, stanno. Pronti? Taglio, eh? Bene, presto, applauso. It's warm, but my heart remains heavy, and I watch as her breasts gently rise, gently fall, for I know with the first light of dawn I'll be leaving. Ecco, grande piacere che abbracciamo l'avventura ufficiale della sedicesima mostra del ricavo. È un evento che per noi è molto importante e che, come ogni anno, ci riempie di tante gioie, ma anche di tanto lavoro. Da anche il Ghisistan, che ha fatto venti ore di volo per arrivare a Valtopinna. Grazie alla Cassa dei Popoli che ha curato per noi. E la signora, ve la voglio presentare. Grazie alla Cassa dei Popoli che arriva in particolare a tutti che si sono prodigate perché abbiamo avuto grandi difficoltà. Signor Vesto, per un bravo saluto. Grazie. Io ovviamente non so ricamare, però ho visto mia mamma che ricamava, ricamava con passione. Quando iniziava il lavoro del ricamo bisognava lasciarla in passi, ecco, perché ricordo anche che la portavo a comprare i tiri ed era un'operazione estenuante perché non si accontentava da un negozio all'altro. Io non capivo le lunghe attese che dovevo fare, perché è un'arte. Grazie per questa iniziativa, a chi la promossa, perché ci ricorda che noi non dobbiamo tagliare e uccidere e basta. Dobbiamo imparare a ricamare imparando l'artito della mamma di Dio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.